Cadrà il 31 luglio il bando messo a disposizione dalla Regione Marche per il sostegno al turismo regionale. Si tratta di 10 milioni e 500 mila euro e l'agevolazione è rivolta a tutti gli operatori del turismo e la loro ripartenza connessa all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il sottore turistico non si aspettava una manovra del genere, un bando simile da parte della Regione Marche. Cercheranno tutti quanti di poter addire a questi fondi, ma comunque non risolveranno la situazione, come ci ha spiegato un albergatore, nonché presidente dell'Associazione Cuochi della provincia di Fermo. Una ripartenza lenta, ma che comunque si sta vedendo. Come stanno andando le cose per il settore turistico ricettivo? Bene, tanto noi non abbiamo mai chiuso, pensando che la città meritasse almeno un presidio in tempi così oscuri. Abbiamo lavorato in quei mesi tra il 10 e il 15% del normale fatturato. Al momento siamo intorno al 30%, quindi in aumento e speriamo che si muova sempre di più. La Regione ha appena stanziato dei fondi importanti, al di là di quelli elargiti dal Governo per questo settore. Come possono aiutare e come devono essere strutturati anche per essere recepiti? Noi abbiamo partecipato, abbiamo fatto la domanda su tutti i bandi e sono stati sicuramente apprezzati quelli della Regione perché erano inaspettati e neanche dovuti, questo possiamo dirlo. Certo, non è che risolve la problematica. Io auspicavo un abbattimento completo dell'IVA, cose concrete insomma effettivamente, però vedo che si parla di tutt'altro e ahimè, credo che non saranno sufficienti per molte aziende. Per quanto riguarda alcune tasse come la Tari, il Comune di Fermo sta facendo la sua parte, ma l'autunno come viene visto appunto dal settore? Perché si parla di un autunno nero in economia in senso generale, nel settore alberghiero? Io credo che intanto se cominciassero a sciogliere e togliere un po' di burocrazia, un po' di cose, un po' di paura che attualmente è instillata nelle persone si può auspicare un autunno buono dal punto di vista dei fatturati. È chiaro che molte aziende potrebbero non arrivarci a quella data perché ci sono situazioni molto gravi. Già non venivamo da un periodo rosio insomma, quindi si stava già alla canna del gas come si dice in quel momento. Stare chiusi dei mesi, molte aziende non so come possono fare insomma a resistere.